Oggi in Consiglio abbiamo riproposto il biglietto unico relativamente ai trasporti. Un'occasione, uno strumento importante per lavoratori, studenti e i tanti che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico locale. Ma per la seconda volta la Giunta Marsilio ha respinto questa nostra proposta, che è già operativa da diversi anni a Pescare e a Chieti e chiediamo anche l'attivazione per Teramo e l'Aquila. Ma la Giunta regionale, come per tante altre nostre proposte, ha risposto negativamente, ha bocciato questa opportunità che vuole aiutare soprattutto studenti e lavoratori. Tanti sono i problemi nel settore dei trasporti, un settore lasciato in abbandono dalla Giunta Marsilio, tant'è che i sindacati spesso intervengono e oggi stesso hanno chiesto l'attivazione di un tavolo perso le prefetture per verificare e approfondire una serie di difficoltà, di inadiempienze, di disservizi e tutti i sindacati insieme hanno chiesto questo tavolo di confronto. Purtroppo siamo a fine legislatura e la Giunta Marsilio è sotto gli occhi di tutti quello che ha combinato nel settore dei trasporti.